Diego Mazzocchi, quinto la prima giornata, terzo la seconda giornata e terzo in finale, ci spieghi un po' come hai pescato in queste due giornate? È un campo gara complicato, povero di pesce e acqua sporca, preparazione, però alla fine due pesci a giornata sono usciti poi. Niente, è stato un bel campionato, soprattutto ci vorrà tanta fortuna in questa gara. Il primo giorno come hai pescato e cosa hai preso? Ho preso un tordo e un saraco, ma avevo preso anche altri due pesci, ma non sono rientrati. Alla seconda giornata, altri due pesci, una bella corvina e un saraco. Avevi i pesci segnati che poi non hai ritrovato? No, ho razzolato tutto il campo gara e alla fine due pesci a giornata sono usciti. Adesso ti aspetta il campionato di prima a Marsala? Sì, un po' di emozione c'è. Poi quando ho detto che c'è tanta corrente e il campo gara è un po' duro. Senti, noi ti facciamo gli auguri per questo assoluto che andai a fare a Marsala e ci rivediamo giù. Grazie.